Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video non sarò sul mio canale Ma sul canale di ThePokemon99 Volevo fargli questo video di pubblicità Vedete io sono iscritto Iscritto Perché ha solo 3 iscritti E volevo che vi iscrivesse al suo canale Perché fa dei video belli Però Iscrivetevi Perché È da Due mesi che si è iscritto E in tutto ha solo 3 iscritti Perciò iscrivetevi al suo canale Metterò il link in descrizione E Se siete di buona volta Iscrivetevi anche al suo canale 3 video Per chi non ha nessuna idea Secondo me Oppure secondo lui E comunque Farò anche un DCBM con lui E Iscrivetevi Per chi non ha il canale Poi gli suggerirò qualche immagine Forse Vabbè ragazzi Il video finisce qui Volevo commentare Iscrivetevi Soprattutto Al canale di ThePokemon99 E Alla prossima Ciao 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 Ciao